In un campo che non ne ho promossa con tutto questo entusiasmo, poi che c'è, ci sono un mila persone, penso che è stato bene, dai. Negli ultimi anni con il Verona sono tante sfide, abbiamo fatto, fortunatamente non abbiamo perso mai, ora è andata bene, dai, andiamo avanti. Ora c'è subito un'altra partita martedì, insomma speriamo di affrontarlo nel migliore dei modi, però è una vittoria che da Morana, anche perché tutto un metodo nuovo di gioco non era semplice per noi questa prima partita. Quindi vi siete eravati in disciplina a metà del primo tempo, a un certo punto ci sono stati, io penso che abbiamo fatto i primi 25 minuti benissimo, dove potevamo fare due o tre gol, è una vocazione più chiara, poi penso che sì, gli ultimi 20 minuti loro hanno fatto la loro partita, ma penso che ci possa stare, dai. In che cosa siete diventati Zemaniani? Beh, nel fatto, io penso che il fatto che il Comunicese si creano 7-8 palle gol a partita sia una cosa importante, poi c'è la volta, come oggi, che riusciamo a fare due gol, magari con la terrestina ci ha detto male che siamo riusciti, siamo riusciti, siamo riusciti, poi siamo usciti, però dai, stiamo crescendo, stiamo provando a fare quello che vuole il mister, e niente, guardiamo ora questa partita di martedì. Scorci uscire? Da quando sono uscito, no, vabbè, è logico che fa piacere giocare tutta la partita, però io, insomma, c'è gente che è rimasta a casa, che non è stata convocata, c'è gente che non è nemmeno entrata oggi, quindi sono contentissimo di far parte di questo gruppo e speriamo di continuare a far parte. Grazie.